Salve a tutti e bentornati dal vostro LuigiFrio85. Bene, sono quasi luna di notte, vado a letto perché ho un male agli occhi che non finisce più domattina alle 6 e mi devo svegliare. Volevo solo comunicarvi una bellissima notizia. Ho ripreso in mano tutta la, diciamo, la tabella collegata alle date delle sagre, delle fiere di Bologna provincia. Bene, vi darò presto notizie su tutte le fiere, comprese, adesso ce ne sono due molto vicine, che una è qui a Bologna e una è a Modena, e sarò presente lì. Io ci sarò. Sarò presente per incontrare anche i miei fan, i miei iscritti, i miei follower e tutti coloro che ancora non mi conoscono. E poi in tutto l'arco dell'anno, anche a settembre, ci saranno, tipo roaming, no? Ci sarà la fiera di Modena, che indice la classica fiera dei fumetti, la fiera dei videogiochi, la fiera dei nerd, per intenderci, e dei youtuber. E io sarò là. Sarò là in prima fila per voi. Verrò lì in prima fila per voi, per conoscervi. Quindi mi raccomando, fatemelo sapere. Se venite o non venite, io vi metterò aggiornato nel canale, su Facebook, nel gruppo di LuigiFrio85, youtuber, e le date in cui io sarò presente, gli orari e ovviamente anche dove, perché vi dirò la fiera, quale sarà la fiera, in che città, in che giornata e in che orario. Io sarò presente lì per conoscervi anche di persona, perché come ben sapete, ok, video, ma io preferisco face to face. Porterò io personalmente anche dei fogli, con il mio logo, semplicissimo, col mio logo, già stampato, su un foglio di carta, tranquillo, normalissimo, se no faccio fare anche direttamente su, adesso vediamo, su un foglio di carta normale da stampante, oppure qualcosa di più raffinato, e firmerò le dediche. Farò l'autografo e vi metterò anche la dedica per tutti coloro che me lo chiedono. Per il resto, infatti, vi dirvi, aggiornerò, man mano che io saprò bene le date, che ci sono già, adesso me le devo solo segnare, perché le ho appena scaricate. Mi devo organizzare, però sicuramente mi troverete. E mi riconoscerete, perché comunque sia, a parte la barba e la faccia, per chi mi segue già, avrò una maglietta e un cappellino, se trovo chi mi fa il cappellino. E ovviamente, ma adesso è tutto un progetto, di fare una maglietta bianca, una polo bianca, con scritto Lewis qua, che sarebbe il mio nome con cui tutti mi chiamano, che sarebbe Luigi in inglese. Qui lo stemma mio, il mio, diciamo, il mio logo di battaglia, con scritto LuigiFri85, youtuber, e di dietro sulla schiena scritto in, diciamo, lettere cubitali, cioè proprio tutto per esteso, pello in grande. E quindi sarà impossibile non riconoscermi. E vi aspetto numerosi, e spero di conoscervi tutti, e fare nuove amicizie. Accetto ovviamente, per chi mi conosce già, anche di se avere anche, penso proprio di sì, anche delle critiche volendo, però, ricordatevi, perché ho già visto il video che ho pubblicato oggi, critiche, critiche devono essere fatte col massimo del rispetto, dell'educazione, non devono essere offensive, né minacce, né cose pese, ma devono essere piuttosto delle critiche, piuttosto costruttive, positive e costruttive, perché altrimenti qua, cioè, viva il rispetto per gli altri. In generale, mi raccomando, in generale, siamo persone adulte, siamo ragazzi e uomini, quindi ragazzi, ragazze, uomini e donne, quindi specifico, adulti, persone che hanno testa, che siamo comunque persone che sanno come comportarsi, e allora comportiamoci sempre bene. L'educazione appaga molto di più della violenza e della maleducazione, ve lo posso assicurare. Ok, vi aggiornerò strada facendo, e domani mattina mi segno intanto tutte le date, cerco di dirvele tutte, poi man mano vi dirò esattamente le giorni esatti in cui mi troverete, dove, perché devo telefonare e informarmi alla fiera, e soprattutto, devo organizzarmi per andare a fare la maglietta, c'è niente non l'ho ancora fatta, ciao, buonanotte.